benvenuti nel mio canale siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale dopo esserti iscritto per essere informato di tali video più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica guarda chi è fuori era sbalorditiva con la sua bellezza bionda nella serie trap che ha iniziato a mettere sugli schermi di tv 8 anano zu che interpretava il personaggio di umut l'ha impressionata per la sua bellezza anano zu che ha interpretato il personaggio di hop nella serie trap che ha iniziato ad essere trasmessa sugli schermi di tv 8 er kai era già apparso sugli schermi nella serie tv kaderi minoio ha ricevuto grandi consensi con il suo partner e brucia nella serie tv er kai tornato sullo schermo con la serie trap l'amante di ano zu si è ammirato per la sua bellezza anano zu che interpreta il personaggio di hop nella serie trap ora in onda er kai era già apparso sugli schermi nella serie tv kaderi minoio anano zu noto per avere 32 anni ha completato la sua vita al liceo come diplomato al buio college ano zu noto anche per avere una laurea in studi generali ik berkeley applied mathematics dopo essersi diplomato all'università si è dedicato alla recitazione e formazione alla recitazione successivamente è apparso per la prima volta sugli schermi televisivi con la serie tv magnificent century cosem che ha iniziato a trasmettere nel 2015 ano zu ha fatto il suo debutto più importante pubblicato tra il 2019 e il 2021 l'ha catturato con il personaggio di miran a cui ha dato vita nella serie er kai l'identità della ragazza del bellatore era sorprendente sandra peste malgia l'amante 27enne di ano zu ha attirato l'attenzione con la sua bellezza era così nelle nostre notizie se ti piace premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti ci vediamo al prossimo video arrivederci